Ogni anno milioni di animali migrano verso casa, ma alcuni lo fanno meglio di altri. Un momento, non è New York. Ho detto un momento, non è New York. Come faremo ad attraversare l'Europa senza dare nell'occhio? Come? Mi abdi-dabdi-dabdi-dabdi-dabdi-dabdi-dabdi. Attenzione, abbiamo individuato degli animali a fede libero. Chiamate il capitano buo degli accalabbiatori. Poveri animali, avrete a che fare con me. Gli smirri! Ora che facciamo? Non possiamo mimetizzarci, non siamo in Africa. Fate cercare! Andiamo! Andiamo! Grazie, scenderemo alla prossima fermata e torneremo in America. Anche noi siamo diretti in America. Cosa? Possiamo venire con voi? Wow! Questo treno è solo per animali di circo. Ma noi siamo di circo. Che numero fate? Tata-tara-nata-circo, tata-tara-nata-afro-circo-afro-circo-afro-coni-pua-coni-pua-afro! Sicuri? Quest'anno, per poter tornare a casa, ci inventeremo qualcosa che lascerà tutti a bocca aperta! Sono sulla fude! Wain, man! Oh! Ah! Ah! No! Faranno qualunque cosa per tornare a casa. Attenti al botto! Quello da solo valeva il prezzo del biglietto. Sì! Sì! Scappate pure. Ma non salverete la pelle! Che fai? Le zeppre non possono guidare, solo i pinguini umani possono guidare! Oh, sì! Dreamworks Madagascar 3, i più ricercati d'Europa, in 3D. Ehi, questa non è la prima classe! Ti hanno mai detto che assomigli a una supermodel? Wow! Che donna! Mi vita per quanto, noniritualmente, frappasi! Sigkeiten! Li puòmo l'uropaanter! È arrivato! Ma è. GONO!